Cibus 2016, siamo da Fattoria Sila. Lei è il signor? Claudio Vivacqua. Che cosa produce Fattoria Sila? Nasciamo per una produzione di conserve dove riprendiamo i vecchi prodotti di origine calabra, dove nasce la nostra azienda nell'altopiano silano, nel cuore della Sila. Dove c'è un'aria e un'acqua incontaminate, da lì parte questa avventura oltre vent'anni fa, nella quale abbiamo deciso di recuperare le vecchie tradizioni calabre e quindi anche la tradizione della conserva calabra, famosa ormai in tutta Italia e in tutto il mondo, per portare sulle tavole dei nostri connazionali all'estero tutte queste predibiatezze che ancora mantengono intate le loro radici. Un po' di sapore d'Italia anche all'estero. Sì, esatto. Ormai il Made in Italy prosegue alla sua galoppata in tutto il mondo e siamo fieri di questo e per questo continuiamo a investire sui prodotti esteri e sui prodotti italiani all'estero e cercando di sviluppare nuovi prodotti con vecchie tradizioni, però abbinando anche delle nuove ricette e elaborando prodotti nuovi con ingredienti nuovissimi per la Nouvelle Cuisine. Ci illustra alcuni dei prodotti che proponete? Il nostro forte come azienda Calabra si incentra principalmente sul peperoncino e quindi abbiamo molti prodotti a base di peperoncino che andiamo ad abbinare a altri prodotti per poter fare delle conserve particolari, però oltre a questi ovviamente utilizziamo prodotti del territorio come può essere la cipolla rossa di Tropea, piuttosto che dei peperoni o delle melenzano o quant'altro e andiamo a creare questi prodotti che partono più che altro da una base di antipasti a delle salse per bruschette piuttosto che dei pesti o dei sughi pronti. Da lì quest'anno la novità è quella di avere creato dei prodotti a base di cana passativa molto importanti diciamo oggi specialmente guardando a quella categoria di persone vegetariane o vegane che contengono proteine piuttosto che fibre o omega 3 o omega 6 che sono molto importanti per l'organismo. Quindi gusto e salute. Gusto e salute, ormai oggi è il moto diciamo dei nostri prodotti. Starete presenti ad altri eventi, proporrete ad altri eventi i vostri prodotti? Sì, siamo in giro sempre per il mondo, partecipiamo a alcune manifestazioni come può essere il Sial di Parigi piuttosto che la Nure di Colonia, adesso partiremo per il fancy food di New York e continuiamo la nostra avventura in giro per il mondo. Allora buon lavoro, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.